Cos'è per te le verano? Semplicemente cazza, onestamente non devo dire una cosa, se tutto quello di potere per me è fantastico. Il verano è un paese per esempio di persone che lavorano, è un paese ricco, un paese abbastanza ricco, movimentato, si muove, si lavora, si dà da fare, ecco. Un bel paese che si lavora sempre, quindi andiamo avanti così. Cosa c'è di speciale? Di speciale c'è, alle vie, si mangia e si beve bene, di tutto. Cos'è per te le verano? Cos'è per te le verano? Eccoci, eccoci... Grazie a tutti